Stasera, giovedì 20 ottobre alle 21.15 su Sky 1, si conclude la fase di selezione di X-Factor X con la puntata degli Home Visit, che vedrà impegnati Fedez con le scelte delle under donna, Arisa con gli under uomini, Manu Agnelli con gli over e infine Alvaro Soler con i gruppi. Ogni singolo giudice per questo momento cruciale del talent sarà affiancato da un ospite d'eccezione. Benny Benassi, Max Gazzè, Fatti Bravo e Daniele Silvestri metteranno a disposizione tutta la loro esperienza musicale per aiutare i giudici a comporre la propria squadra. A far da cornice questa fase cruciale in vista dei live a partire dal 27 ottobre prossimo, quattro diverse città, Barcellona, Bologna, Torino e Saint-Tropez. Le decisioni da prendere al momento degli Home Visit sono tante e delicatissime, il futuro degli aspiranti concorrenti di X-Factor X verrà svelato tra qualche ora, eppure su Wikipedia le sorti dei cantanti che hanno superato i bootcamp sembrano essere già state scritte. L'enciclopedia online infatti ha già messo nero su bianco come andranno a finire gli Home Visit e dunque chi saranno i 12 cantanti definitivi di X-Factor. Lo spoiler è stato già cancellato ma la notizia ormai si è diffusa. Stando a Vicky i nomi dei finalisti sarebbero Eva Pevarello, Andrea Biagioni, Veronica Marchi per Manuel Agnelli, Diana Lu, Soul System, Les Anfans per Alvaro Soler, Gaia, Valentina e Rossella per Fedez e infine Marco Ferreri, Pink, Gigiabe e Diego Conti per Arisa. Sarà vero?